Immagina una rete di connessioni globale, una vetrina virtuale ed una piattaforma online integrata che possa riunire acquirenti, venditori e professionisti di Mergers and Acquisitions. Uno strumento innovativo e rivoluzionario che permetta un abbinamento automatico tra opportunità di cessione o acquisizione di piccole e medie aziende. Questo è Mergit, il primo network professionale destinato ai dottori commercialisti ed esperti contabili. Ecco come funziona. Un professionista con un account Mergit ha la possibilità di inserire un nuovo progetto di cessione, una richiesta di acquisizione o di apertura del capitale a fondi di investimento indicando alcuni parametri economico-finanziari e una breve descrizione dell'opportunità attraverso un processo guidato che gli permetta di essere contattato da altri professionisti o potenziali investitori mantenendo al tempo stesso riservati i riferimenti del proprio cliente. La piattaforma, oltre ad una ricerca libera di opportunità presenti nel database, esegue un matching automatico tra potenziali venditori e acquirenti, industriali o finanziari, per settore e dimensione. Una volta individuato un deal interessante, direttamente o per conto di un proprio cliente, si prende contatto con il professionista che gestisce la transazione. Viene siglato un accordo di riservatezza al fine di avere piena visibilità sull'opportunità, potendo a quel punto richiedere maggiori dettagli e documentazione aggiuntiva, proseguendo il rapporto offline, faccia a faccia tra professionisti. Mergit è tutto questo, ma è anche uno strumento integrato che avvicina e mette in connessione tutti i commercialisti registrati, creando così un vero e proprio network. Tutti gli utenti possono condividere opportunità di business, seguire le attività di colleghi, approfondire aree tematiche ed interesse e utilizzare strumenti di valutazione d'azienda aggiornati, con molti più di mercato settoriali, italiani ed europei. Vai su www.mergit.it ed iscriviti ora. Mergit, il primo network professionale destinato ai dottori commercialisti ed esperti contabili.